Una tradizione che continua e che regala emozioni ineguagliabili. La Roland's Academy ha presentato il 28 giugno scorso presso il Castello Angioino aragonese di Agropoli l'arte della danza sportiva. 150 minuti di puro spettacolo con show e coreografie di danze standard latine e caraibiche presentate dai ballerini di alto prestigio che nel loro 32esimo anno di attività hanno riconquistato il podio nelle finali nazionali, open mondiali e campionati italiani Fizzconi. I ragazzi della Roland's hanno fatto vivere una serata indimenticabile alle centinaia di persone che hanno assistito allo spettacolo presso il Castello. Ospiti della serata il pluricampione italiano da 16 anni Vito Coppola e Ona Oinas. Un grande consenso per i maestri Laura e Bruno Manna nonché per il vicepresidente Maria Grazia Massanova e il presidente onorario Carmine Clematide che continuano a far vivere un sogno che non tramonta mai con una passione condivisa e tanta voglia di trasmettere i valori della danza sportiva. Grazie a tutti! Grazie a tutti!